Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera a Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, a Martiello Sorgi, editorialista della Stampa. Allora, oggi è stata messa la prima pietra verso la riforma del Premierato, poi vedremo se ci riuscirà o non ci riuscirà, ma insomma si è deciso di varare in commissione al Senato l'elezione diretta del Primo Ministro con il limite dei due mandati e con alcuni dettagli sulla legge elettorale che chiariremo dopo. Allora Presidente, nei 5 minuti dopo il Tg1 lei ha detto che si danno eccessivi poteri al Presidente del Consiglio, però il nostro è l'unico Presidente del Consiglio che di fatto non nomina i ministri perché li propone e lei sa bene anche per l'esperienza diretta che il Capo dello Stato se non gli piace non lo nomina. Non può revocarli, non può sciogliere le camere, cosa che altri primi ministri, seppure eletti in una maniera diversa, in Europa fanno. Guardi, stiamo parlando di cose diverse. Per quanto riguarda la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di scegliere la squadra di cui poi è responsabile Supremo agli occhi della popolazione e delle altre istituzioni, sono perfettamente d'accordo. E anche sulla possibilità di poter revocare un ministro che non dovesse essere all'altezza del compito, dell'alto compito. O un sottosegretario, perché adesso non è un sottosegretario. Allora, sottosegretario è diverso, adesso si può, il ministro no. Quindi ci sono alcune disfunzioni che infatti noi abbiamo segnalato. Noi non abbiamo mai detto che va bene tutto quel che c'è adesso, nell'assetto attuale. Noi abbiamo fatto delle proposte anche significative, una decina di proposte, quelle più importanti di intervento. Però sono tutte proposte che si inseriscono in un quadro di pesi e contrapesi per mantenere un equilibrio costituzionale. Invece, nella proposta che questa maggioranza sta portando avanti, con la furia anche delle elezioni europee, perché evidentemente è un primo passaggio, vogliono portarlo a casa già in occasione delle elezioni europee, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcune idee, anche buone in astratto, vengono confezionate in un contesto che altera completamente, squilibra completamente l'assetto dell'equilibrio dei poteri. Perché? Perché lei va a dare questi maggiori poteri al Presidente del Consiglio. L'elezione diretta è una grande investitura di fiducia, una legittimazione popolare, con il risultato che il Presidente della Repubblica non conterà più nulla, sarà un passacarte, un cerimoniere, su questo siamo tutti d'accordo. O meglio, tutti i costituzionalisti, il Presidente delle Corti Costituzionali, che hanno parlato, sono venuti in Parlamento, l'hanno certificato. E qui non vale dire, attenzione, ma noi non modifichiamo realmente i poteri. Cioè, se attribuisci molti più poteri al Presidente del Consiglio, è chiaro che svuoti di significato la figura del Capo dello Stato. E questo è un punto. Il secondo punto è il Parlamento. Noi siamo in una democrazia parlamentare. Che significa? Lo spieghiamo ai telespettatori. Che comunque il Parlamento, in virtù di una logica rappresentativa, consente a tutti i cittadini di esprimere un rappresentante del territorio. E quindi assomma in sé il Parlamento la funzione legislativa. Oggi già viviamo in un contesto in cui il Parlamento è ridimensionato in questa funzione. Perché, se andiamo a vedere, la maggior parte della iniziativa legislativa è concentrata in seno al governo. Decretazione d'urgenza, decreti legislativi delegati. Noi in Parlamento quasi mai riusciamo a provare una proposta che nasce in Parlamento e viene portata. Ma questo è capitato anche con i vostri governi. Ma certo! Perché c'è un taglio... Ma infatti io non ho mai detto di non aver avvertito di aver avuto a sufficienza poteri. Il bicameralismo perfetto sta rivelando un disastro. Ma noi possiamo ragionare anche e superare il bicameralismo perfetto. Ma qui è un'altra logica. La logica è il simulstabunt e simulcadent che tanto ha ispirato l'attuale Presidente del Consiglio Meloni. Significa questo, che il Premier può condizionare il Parlamento. E addirittura con un premio di maggioranza si collega la maggioranza parlamentare a quella che ha eletto il Presidente del Consiglio. Se poi si arrivasse a una scheda unica sarebbe ferale. In sostanza cosa succede? Che io Presidente del Consiglio vengo eletto. Concentro maggiori poteri che adesso non ho. Già ho un potere di iniziativa legislativa. Se decido il Parlamento un domani ci dovesse opporre una mia legge, che ho un potere di ricardo? Mi scusi, ma qual è? Cari parlamentari, andiamo tutti a casa. E se non me l'approvate ci andiamo domani a casa. Ecco, allora lei pare che una riforma del genere non c'è in nessun paese del mondo. Ci sarà una ragione se chi l'ha sperimentato ha dovuto poi, se è trovato in un'instabilità perenne e ha dovuto abbandonare. Però lei stesso riconosce che in altri paesi il Primo Ministro ha poteri maggiori, è Presidente del Consiglio. Non voglio arrivare a Berlusconi che diceva che il suo potere era quello di fare l'ordine al giorno del Consiglio dei Ministri, ma di fatto... Lui li aveva delegati al sottosegretario, quindi era diverso. La sua riforma ideale quale sarebbe? Ascolti, io dico, se questo governo avesse presentato una riforma presidenziale o semipresidenziale che è sperimentata in altri paesi, poteva avere una sua logica. Cioè quella francese le piace di più. Ma francese, americane, quello che è. Ma non c'è nessun sistema come questo dove c'è un capo dello Stato che non conta nulla e c'è addirittura un Parlamento asservito al Presidente del Consiglio. Ascolti, in Francia, negli Stati Uniti, ci ritroviamo spesso con parlamenti che fanno dar riequilibrio, perché hanno maggioranze diverse. Questo è un grosso limite a uno strapotere del Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti di turno. Qui invece no. Quindi noi andiamo verso un sistema in cui si dà l'illusione ai cittadini che ci guardano a casa, guardate che voi sceglierete il nome del Presidente del Consiglio. Una scelta, peraltro, che non sollecita più di tanto i cittadini italiani, perché lo possono fare già col sindaco, col Presidente di Regione, ma l'astenzionismo rimane molto alto. Allora, se vogliamo dare l'illusione e la certezza, piuttosto che l'illusione, scusi, ai cittadini di poter contare, rafforziamo gli istituti di democrazia diretta. Non illudiamoli dicendo, guardate, mettete un segno su un premier, se mai alla luce, di un talk show televisivo dove c'è stata efficacia comunicativa e poi conterrete di più. Perché al contrario, concentrando i poteri nelle mani di una singola persona, Presidente del Consiglio, loro conteranno sempre meno. Non ho capito quali poteri in più avrebbe, oltre quelli di chiedere come la fanno. Lo scioglimento, scusi, il potere massimo è lo scioglimento del Parlamento, cioè di fronte a una legge che viene imposta e che il Parlamento ovviamente dovesse, rispetto alla quale il Parlamento dovesse esprimere una nota di disaccordo o una vivacità parlamentare e discusione. Anche in Germania. In Germania il sistema è completamente diverso perché è il sistema che noi volevamo e io anzi, ecco perché c'è una differenza a fare. Qui si confonde e diciamo qui, secondo me, c'è il trucco, se mi permette, il trabocchetto. Si dice ai cittadini italiani che noi dobbiamo garantire maggiore stabilità. Il che è vero, è un obiettivo condivisibile. Ma in ragione della maggior durata e stabilità dei governi, invece, si va a offrire una maggiore intensità di potere al Presidente del Consiglio. Allora, riassumo, io sono stato Presidente del Consiglio in due governi. Io, sinceramente, non ho mai avvertito di non avere poteri a sufficienza. Certo, il fatto di scegliere ancora più responsabilmente la squadra e di poter evocare un ministro è una cosa importante, ma io non ho mai avvertito che è l'intensità dei poteri che manca al Presidente del Consiglio. E la durata? Allora la durata basta una sfiducia costruttiva. Cioè, mi spiego meglio, quando c'è stato il Conte 1 e il Conte 2, noi abbiamo avuto il papete di Salvini, il colpo estivo di Salvini e il primo governo, e poi Renzi nel Conte 2, che voleva maggior spazio, ovviamente, voleva contare di più. Hanno fatto delle crisi di fatto al buio. Ecco, una sfiducia costruttiva. Questo non succederebbe. Possiamo stabilizzare il tutto, possiamo anche consentire al Presidente del Consiglio maggiori poteri per quanto riguarda la nomina e revoca dei ministri, ma squilibrare tutto buttando a mare alle ortiche la figura del Capo dello Stato, che in questo momento è il garante dell'unità della Costituzione, l'unità del Paese, ha una funzione importante anche di moral situation, che perderebbe completamente. Marcello, come fallisce questa vicenda? Ma io adesso penso che l'approvazione della riforma, come sappiamo, è un iter molto lungo, due votazioni per ogni Camera, intervalli di tre mesi, poi deve essere sullo stesso testo, se no se si ricomincia, poi c'è il referendum, quindi lo vedremo. Però da quello che dice il Presidente Conte, mi pare di capire questo, che lui ha delle perplessità serie e racchiarite sui poteri che vengono assegnati a un nuovo Premier eletto, a cominciare da quello di sciogliere le camere. Ma non ha una perplessità vera sulla elezione diretta. Mi sbaglio o è così? Guardi, Direttore, è chiaro che la fonte di legittimazione è fondamentale per l'attribuzione dei poteri. Cioè, se noi abbiamo un Presidente del Consiglio che viene investito e nominato al popolo, quando si cederà di fronte al Presidente della Repubblica, che cosa potrà dire un Presidente della Repubblica che è stato invece eletto tramite un passaggio parlamentare dove il Presidente del Consiglio conta perché è agganciato a una maggioranza che lo sostiene? Cioè, quale moral situation? Quale garante dell'unità della Costituzione del Paese, dell'unità d'Italia, si potrà rivelare un Capo dello Stato di fronte al Presidente del Consiglio che è stato eletto dal popolo? Cosa potrà obiettarli? Però lei ha detto prima che non è contrario, sarebbe contrario ad una forma semiprenzialista come quella francese. No, io ho detto un'altra cosa, la nostra proposta come Movimento 5 Stelle era intervenire con una sfiducia costruttiva, se si vuole discutere di bicameralismo perfetto, le possiamo discutere e soprattutto attribuire al Presidente del Consiglio il potere di nomina della squadra dei ministri con revoca. Questo ho detto io. Ho detto un'altra cosa, se questa maggioranza e questo governo avesse presentato una riforma già sperimentata, meno arrischiata, che ci porta in una prospettiva di avventurismo costituzionale che non esiste in nessun altro Paese, ne avremmo potuto quantomeno discutere. Sarebbe stata una proposta che io considero legittima da valutare, non sto dicendo da sottoscrivere. Il problema è che oggi noi ci troviamo di fronte a un rischio, a un percorso che è veramente pericoloso per il sistema democratico. Però lei Presidente, a proposito dei poteri del Capo dello Stato, credo che nessun Paese c'è un sistema come questo, ed è vero. Ma in nessun Paese ci sono i ribaltoni e i governi tecnici. Cioè io credo che lo scopo principale di questa iniziativa sia quella di evitare Scalfaro 95. Cioè Bossi va da Scalfaro e dice guarda se non mi scioglie le camere io faccio vedere Berlusconi. Scalfi dice va bene e nemmeno Monti 2011 in cui, l'ha rivelato pubblicamente, l'hanno messo tutti quanti, Monti e Belincari formare il governo a giugno e Berlusconi è caduta a novembre. Tutto questo non mi pare. Perché se arresta Monti dovrebbe nominare anche Draghi? Su Draghi vi fermate tutti? No, 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 io non mi fermo affatto. Altrove non esistono i governi tecnici. Negli altri Paesi non esistono i governi tecnici. E il sistema della democrazia parlamentare? Cioè il Parlamento esprime ovviamente su ruolo diciamo importante anche per quanto riguarda l'incarico conferito al Presidente della Repubblica il premio sulla base di maggioranza che sono espresse. Ora si possono mettere anche dei limiti al Parlamento. Cioè della serie il Parlamento potrebbe, noi potremmo anche decidere che il Parlamento può nominare solo dei parlamentari e non delle persone, dei tecnici presi da fuori, dall'esterno. Cioè si può intervenire, diciamo, se dei correttivi, questi esempi che lei ha detto hanno dato fastidio e danno fastidio all'opinione pubblica perché io capisco che il governo tecnico non entusiasma perché la popolazione vuole un governo politico che scelga e si assuma la responsabilità di scelte politiche e non sempre, diciamo, il governo tecnico, io stesso non sono entusiasta diciamo, dei governi tecnici, ma proprio in linea di principio. Al di là, lei ha nominato le persone su cui non voglio entrare nel merito delle scelte che sono state fatte. Ma diciamo, io condivido questo. Ma noi possiamo porre anche dei limiti all'interno di un sistema che abbia degli equilibri e dei contrapesi. Non si va a prendere la figura fuori che non è stata espressa, non è stata filtrata dalle elezioni del Parlamento, dalle parlamentari. Va benissimo. Ma il fatto che questa la soluzione sia invece arrivare a concentrare i massimi poteri, alterando tutto, perché guardi, perché l'alterazione? Non riguarda, attenzione, solo il capo dello Stato ridotto a cerimoniere. Non riguarda solo il Parlamento che subisce il ricatto di dover andare tutti a casa da parte del Premier di turno. Ma poi lei sa che dal Parlamento e dalle elezioni del Parlamento passano tutta una filiera di istituzioni di garanzia, la nomina dei giudici costituzionali, delle autorità indipendenti e via discorrendo. Quindi noi andiamo a concentrare nelle mani di uno solo l'intero potere che esiste in Italia. Ma dove mai si è visto? Ma perché il Parlamento continuerà a nominare le autorità indipendenti? Ho capito, ma se colleghiamo una maggioranza che nasce insieme al Premier di turno, il Premier di turno potrà fare quello che vuole, anche per quanto riguarda tutte queste nomine di garanzia. A proposito di maggioranza e di premio maggioranza, la storia del 55% è scomparsa. Oggi Ciriani, il Ministro del Rapporto del Parlamento, ha aperto alla possibilità del ballottaggio per evitare che uno, Macron con il 23-24% dei voti, diventi Presidente della Repubblica. Quindi bisogna, o si raggiunge una soia ragionevole, 40-45 persone, oppure il ballottaggio. Questa è una novità forte perché il centrodestra, D'Alema 1997, accettò il semipresidenzialismo alla francese a patto che il centrodestra accettasse il doppio turno di collegio, esattamente come in Francia. Il centrodestra poi lì si ruppe per varie ragioni, ma il centrodestra allora non lo accettò perché avrebbe perso sempre le elezioni, perché la sinistra è molto più ordinata. Mastella vota per Bertinotti, Bossi certe volte non vota per i candidati di Forza Italia. Questa sarebbe una svolta, cioè il doppio turno cambia completamente il quadro. Allora, l'ipotesi del doppio turno, se fosse coltivata questa maggioranza, sarebbe un temperamento alle storture, agli squilibri di questa riforma. Non risolverebbe i problemi che ho descritto, ma sicuramente impedirebbe, come ha detto lei, che un numero concentrato di voti che non sono reale maggioranza del Paese possa effettivamente esprimere Parlamento, Premio di maggioranza, il Presidente del Consiglio e via discorrendo. Quindi sarebbe un doppio passaggio col ballottaggio, col doppio turno, che si potrebbe fare peraltro anche indipendentemente da un premio di maggioranza, si potrebbe istituire ad hoc sin dall'inizio. E sicuramente sarebbe un temperamento rispetto alla proposta che loro hanno fatto. Quindi sarebbe un tentativo di moderare in corso d'opera una riforma che dall'inizio, vi ricordate, anche nella sua versione originaria, era, lo possiamo dire, completamente sballata. Marcello Sorgi, l'idea del ballottaggio fa la strada, secondo te? L'idea del ballottaggio potrebbe piacere molto al centro-sinistra, lo dicevi già tu. Avrebbe delle conseguenze, perché con il ballottaggio, chi va al ballottaggio sono i due candidati che hanno preso più voti. È chiaro che nel primo turno ogni partito presenterebbe un candidato. Con il turno unico, invece, le due coalizioni si fronteggerebbero con un candidato. Per fare un esempio concreto, se il turno fosse unico, la cosa più probabile al momento è che noi avremmo Meloni contro Conte. Se il turno fosse doppio, io non lo so a chi andrebbe al ballottaggio. Meloni molto probabilmente, perché è la leader del partito più forte, ma chi sarebbe il candidato dell'altra parte, non lo so, al momento direi che sarebbe stregno. Ma che dice? Io dico che le riforme non si fanno col metro della convenienza personale, per cui quando ragiono di doppio turno dico che collocandomi nella prospettiva riformistica che questa maggioranza sta spingendo, sicuramente, ripeto e lo confermo, sarebbe un temperamento. Poi, che favorisca me, Schlein, che favorisca centrodestra, centrosinistra, cioè pensiamo al Paese in questo momento, pensiamo a confezionare una riforma, se lo dico proprio alla maggioranza, che possa sopravvivere anche a noi. Cioè, i nostri costituenti sono stati così lungimiranti, anche perché venivano da un'esperienza seria di macerie vere nel Paese materiali e anche spirituali. Sono stati capaci di costruire un'architettura che a distanza di tantissimi anni, decenni, ancora sopravvive. Poi oggi stiamo a valutare come intervenire. Però scompaginare tutto, rimettere in discussione pensando al vantaggio immediato, che poi lo sappiamo i sondaggi come funzionano. Oggi possono privilegiare qualcuno. Ah, perché? Fra un anno, fra due anni, la situazione potrebbe ribaltarsi completamente. Lo dico anche per questa maggioranza, che adesso sembra abbastanza coesa, apparentemente, blindata, apparentemente. Lo dico anche al Presidente Giorgio Meloni. Non ragioniamo, diciamo, col metodo della convenienza personale. Bene. Allora, giovedì sarà l'ultimo giorno in cui si potranno mandare comunicazioni per ottenere i sconti in fattura, la gestione dei crediti. Quindi Giorgetti, preoccupato dei conti fuori controllo, blocca in qualche modo quel che resta del superbolo, salvo piccole eccezioni per i terremotati. Allora, proprio oggi l'Enea, è quella che tiene i conti, ha certificato che a febbraio, a fine febbraio, eravamo arrivati a 114 miliardi. Ma lei si aspettava che sarebbe uscito così fuori controllo. 114 miliardi di costi. Ma lei sa quanti ritorni ci sono stati? Non lo sa. No, guardi, non la volevo mettere in barazzo. Non lo sa perché noi abbiamo un governo, MEF e ovviamente gli uffici del governo, che non ci hanno ancora certificato quali sono ritorni diretti, e abbiamo visto un extragetto del 2023 pazzesco, e ritorni indiretti e riflessi. Allora io dico, perché stiamo parlando solo di costi? Perché il ministro Giorgetti, che poi è un po' ridicola questa cosa, il ministro Giorgetti era ministro dello sviluppo economico con Draghi. Io ho varato questa misura nel governo Conte II nel 2020, credo a giugno 2020, ma il decreto attuativo maggio, poi il decreto attuativo credo che sia del 6 ottobre, ricordo a memoria. Quindi da quando è entrata in vigore, per qualche mese sono andato via a febbraio 2021. Dopodiché viene Draghi, Giorgetti era ministro dello sviluppo economico. Per un anno e mezzo c'è Draghi, per un anno e mezzo adesso c'è Meloni. Io non ho avuto più accesso ai flussi di cassa della ragioneria e non ho avuto più accesso alle notizie di Enea. Lei ha parlato di Enea. Sai che Enea mese per mese riceve lo stato di avanzamento dei valori? Quindi i governi che ci sono succeduti, mese per mese, hanno potuto controllare, sempre in modo aggiornato, quelli che erano i flussi degli investimenti e prefigurare i ritorni. Perché non hanno mai denunciato pubblicamente in conferenza stampa se ci fosse stato un buco? Sai perché non l'hanno fatto? Perché il buco non c'è. In nessun documento varato dal governo Draghi, di finanza pubblica e dal governo Meloni c'è un buco. Loro adesso stanno trovando un capo espiatorio alla loro incapacità. Adesso lasciamo stare che il buco c'è. No, ma bisogna spiegarlo perché se no non ci si spiega. Ho capito, ma la Meloni da qui alla fine della legislatura farà delle leggi finanziarie incastrate. Perché ogni anno ci avrà una ventina di miliardi che gli vengono... Ma se dalle previsioni di oggi si parla di un deficit sotto il 5% della DEF che prepareranno dopo le europee. Perché è così sicuro? Con chi ha parlato, scusi? Noi adesso non abbiamo ancora nulla di ufficiale. Abbiamo solo conferenze stampa in cui Giorgetti, ripeto, ministro economico Draghi e adesso ministro delle finanze da 16 mesi, 17 mesi, con la Meloni riescono a trovare, additano un capo espiatorio, mentre invece non parlano del crollo della produzione industriale e degli investimenti per 12 mesi consecutivi. Non sono stati capaci di varare una misura per gli investimenti, per rilanciare l'economia. Vogliamo parlare di questo? Certo. Allora, il ministero dell'economia dice che il frutto del superbonus sul PIL è stato di due punti in due anni. Il PIL sono 1780 miliardi, raddoppi, andiamo 35-36 miliardi. Ma il ministro dell'economia, se avesse una responsabilità pubblica e avvertisse questa responsabilità pubblica al signo in fondo, dovrebbe oggi certificare quelli che sono i ritorni di questo investimento. Perché questa misura non possiamo descrivere per un costo. Guardi, ripeto quello che è già noto. Noi abbiamo fatto, e lo dice anche il Financial Times, in tre anni l'incremento di PIL è stato del 13,2%. Abbiamo ridotto il rapporto debito-PIL di 17,6 punti. Abbiamo creato un milione di posti di lavoro. Abbiamo indotto un risparmio energetico che è calcolato da Enea all'incirca di 8 miliardi di kilowatt a fine 2023. Lei sa cosa significa? Significa che siamo il paese europeo che con questa misura si è più avvantaggiato, ad esempio, per quanto riguarda la direttiva sulle case green. Entro il 2030 tutti i paesi europei dovranno indirizzarsi in questa direzione. Noi ci siamo già avvantaggiati. Perché parliamo solo di costo. Io dico, d'ora in poi faccio un appello pubblico, mi permette, da questo studio. Caro Ministro Giorgetti, cara Presidente Meloni, volete parlare ancora di Superbonus e scaricare sul Superbonus i vostri fallimenti, le vostre incapacità? Fatelo pure. Però ogni volta che parlerete del costo, diteci anche il ritorno per tutto il paese, in termini di effetti diretti, indiretti e riflessi. Siamo con il Gepo Conte, siamo con il Gepo Conte, siamo con il Gepo Conte, con Marcello Sordio, il Gepo Conte della Stampa. Allora, prima del TG1, il Presidente Conte diceva che il governo scarica presunte colpe del governo Conte alla storia del Superbonus per nascondere le proprie incapacità. Ma questo Superbonus è così difendibile secondo te, Marcello? Ma guarda, questo Superbonus, diciamo, pesa sul Superbonus innanzitutto la storia delle truffe e la storia delle truffe ovviamente ha rovinato l'immagine del Superbonus, perché quando in un paese si scopre che lo Stato paga il rifacimento di facciate di edifici che non esistono, che non esistono proprio nella mappa catastale dello Stato, questo è grave, molto grave. Io non credo che sia tutta truffa, insomma, e mi ricordo quando alla fine del Covid durante il governo Draghi il boom della crescita che arrivò quasi al 7% fu attribuito da molti seri economisti in buona parte al Superbonus, cioè alla ripresa delle edilizie. Questo è un dato di fatto, cioè che quando riparte l'edilizia improvvisamente diciamo la situazione economica ne risente in modo molto positivo. Poi con il governo Manoli è cominciata la demonizzazione. Quello che vedo che manca è la possibilità di avere dei dati certi su cui giudicare, insomma, perché chi dice 5 miliardi, chi dice 10 miliardi di truffe, ma quante sono state queste truffe? Visto che ci sono dei procedimenti judiciari in corso, da lì si potrebbe capire, insomma, quant'è la montata? Certo, se le truffe sono state un miliardo su 110 miliardi allora non era proprio così male il Superbonus, diciamo. Se le truffe sono state 20 miliardi su 110 miliardi allora comincio a pensare che il costo pagato alle truffe sia troppo troppo alto. Quanto è stato il contributo alla crescita? Perché quando il governo era guidato da Draghi Draghi, mai cresce un cagliere d'Oléans sul Superbonus, si lo presentò come una di delle cose che contribuivano al rilancio dell'economia. Improvvisamente però è diventato la bestia nera. Io non credo che Giorgetti menta, diversamente da Conte, io non credo che Giorgetti menta. Però mi sono accorto che Giorgetti, il ministro dell'economia di questo paese, non dispone di dati certi dalla ragioneria. Cioè la ragioneria dello Stato, che è l'organismo più importante per capire come va il bilancio del paese, non è in grado di fornire dei dati sicuri sul danno provocato dal Superbonus. E lo stesso Giorgetti è costretto a rincorrere, tant'è vero che l'altro giorno ha fatto un provvedimento in cui praticamente lo abolisce. Poi se l'è dovuto in parte un po' rimangiare perché il presidente della regione Lassio gli ha detto guarda che se blocchi completamente il Superbonus si ferma la ricostruzione dell'Aquila che è già molto in ritardo, come tu Bruno sai benissimo, essendo affessionato alla tua città. Quindi sono tutte queste incertezze che rendono una valutazione impossibile. Allora la contestazione fatta alla ragioneria aveva previsto un costo di 35 miliardi che poi invece è andato fuori controllo. Comunque a oggi l'Enea dice che a febbraio 114 miliardi erano. Il costo è sempre lì. Il ritorno è quantificato, anche se abbiamo nei governi Draghi e nel governo Meloni ogni anno si è accumulato un extragettito pazzesco ovviamente per questa corsa dell'economia. Però guardi sono d'accordo con quello che dice il direttore Sorgi. E dirò di più direttore che qui non solo non ci vengono dati i dati specifici e tenete conto che quando ho fatto il Presidente del Consiglio, cioè c'avevo la ragioneria a portata di mano, il flusso di informazioni è addirittura giornaliero e ripeto c'è l'Enea che addirittura riceve tutti gli stati di avanzamento quindi in condizione di prevedere man mano che i costi crescono. Ma un'altra cosa forse va chiarito ai telespettatori, il problema delle truffe. Ma qui anche si dicono spesso delle cose in libertà. Il super bonus è forse la misura più certificata che ci sia tra le varie agevolazioni riconosciute dallo Stato. Quindi non è il super bonus. E in particolare aggiungo che anche il fatto che ha fatto aumentare e lievitare i prezzi è una bufala nella misura in cui c'è un decreto per cui i prezzi devono essere quelli assolutamente calmierati. Quindi è tutta una serie di fandoni che vengono raccontate per cercare in qualche modo di giustificare il fatto che non sia, ripeto, una misura ma non va bene il super bonus. Benissimo. Qual è la misura alternativa che questo governo ha portato per la crescita? Qual è la misura di investimento per le imprese? Noi abbiamo un sistema, a parte i dati della povertà, 5 milioni virgola 7 di poveri. Povertà assoluta, significa che gente che non ha di che mangiare ed è aumentato, sono dati di record, è una povertà. Ma io dico le imprese sono in forte sofferenza. Il sistema tiene, perché comunque l'abbiamo spinto notevolmente ed è un sistema che di per sé, perché i nostri imprenditori sono mediamente bravi. Abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese, però qual è la misura per rilanciare e la competitività delle nostre imprese? Nulla di nulla. Però attenzione, poi l'extra profitti che cosa si fa? Si annuncia finalmente una misura per recuperare qualche risorsa e redistribuirla dalle banche. Le banche hanno accumulato 28 miliardi di utili nel 2023. Dottor Vespa, 28 miliardi, sono dividendi record. E il governo che fa si rimangia, misura sugli extra profitti e addirittura le banche non versano un euro. Beh no, le banche sono state costrette a ripatricionalizzarsi. A proprio beneficio. Guardate, guardi, le aggiungo un'altra cosa, che non c'è la necessità, perché il nostro sistema bancario era in piena sicurezza. Se guardiamo ai cosiddetti reccio, che ci sono descritti, Basilea 1, 2, 3, quindi non c'era nessuna necessità, è una presa in giro. Non era a rischio il nostro sistema bancario. Parlo all'ex Presidente del Consiglio. Quando uscì la misura sulle tasse alle banche, i mercati crollarono. Sa perché? E lei sa bene, ex Presidente del Consiglio, che cosa significa il croco dei mercati. Perché? Perché purtroppo hanno dimostrato, mi dispiace dirlo, lo dico senza nessuna presunzione, di essere dei dilettanti. Perché una misura del genere tu la scrivi insieme alle banche. Io ho parlato con tutti gli esponenti bancari. E' tutti con 28 miliardi di utili. Ma lei pensa che sono dei pazzi scriteriati, che pensano di ingrass... Sa chi sono gli azionisti delle banche che si ingrasseranno di questi utili? Non sono mica delle persone fisiche. Sono i fondi di investimento internazionali. BlackRock, Vanguard e così via. E lei pensa che i nostri banchieri, questi che abbiamo adesso amministratori e presidenti... Io ho parlato con loro. Erano ben felici. Quella misura è stata un disastro. È stata scritta da gente che non sa... Bene, loro se la sono rimangiata, ma non è che le hanno restituiti alle banche. Le hanno costrette a patrimonializzarsi. E lei sa, da ex Presidente del Consiglio, che è una banca patrimonializzata, è una banca che non fa crack, è una banca utile al sistema. Io le ho già risposto. Forse non sono stato chiaro. Scusi, cercherò di essere più breve e sintetico. Per esempio, il nostro sistema bancario non era a rischio. Il nostro sistema bancario era tra i più soli di Europa, almeno in questa fase storica. Quindi l'esigenza di patrimonializzazione non c'era. E non è neppure vera la bufala che ha detto Giorgia Meloni. Perché così patrimonializzandosi erogheranno più credito ai nostri imprenditori, alle famiglie. Non c'è nessun riscontro e anzi, il credito si sta... Se lei va a parlare con gli imprenditori oggi, con una famiglia, il credito è sempre più difficile da conseguire. Quindi non è vero che è stato agevolato il credito. E allora siamo a zero. Nessun euro versato alla collettività. Ma io, attenzione, lo voglio dire a tutti i cittadini. Guardate che non è che le banche sono i nostri nemici. Noi dobbiamo favorire, ovviamente, come abbiamo fatto durante la pandemia, all'erogazione del credito con la garanzia dello Stato. Il 90% abbiamo costretto le banche a finanziare un po' tutti. C'era una crisi di liquidità. Ma questa tassa sugli extra profitti, sugli extra profitti, non sui giusti profitti, andrebbe stesa imprese assicurative, imprese farmaceutiche che hanno maturato extra profitti durante la pandemia. Andrebbe stesa oggi alle industrie belliche. Perché c'è un volume di affari pazzesco, se lo andiamo a vedere, con ex profitti mai pensati, neppure immaginati prima. Ecco, abbiamo un paese in sofferenza. Perché, santo Dio, non dobbiamo avere un governo che abbia il coraggio, la faccia di andare rispetto a questi potentati economici, finanziari, a questi che hanno guadagnato in modo stratosferico a prendere qualcosina da redistribuire a chi è in sofferenza. Presidente, le sacchie sulle spese militari sui 27 paesi dell'Unione Europea non siamo sest'ultimi. Sest'ultimi. Tanto per chiarire i tempi. E quindi dobbiamo correre per essere primi. Lei che suggerisce ci mettiamo a correre. Vuole recuperare tutto il tempo perduto? Ma per carità. Io vorrei soldi per il welfare. Ma la sanità costa, ma l'ha vista come disastrata. Ma vogliamo parlare della sanità. Oggi noi, se guardiamo le statistiche, in Italia sta aumentando sempre più il numero dei telespettatori che sono a casa, che non si curano. La rinuncia alle cure sta riguardando una fetta importante della popolazione. E questo è un dato serio. Io, guardi, parlo anche di cose recenti. Siamo stati in Sardegna, siamo stati in Abruzzo anche per le competizioni territoriali, adesso Basilicata, eccetera. Ma se andiamo a guardare gli indici per quanto riguarda la sanità e la situazione reale della sanità, ma attenzione, non è un solo un problema del centro, del sud. Perché ad esempio la povertà assoluta sta aumentando tantissimo in termini record al nord. Allora, vogliamo utilizzare queste risorse? Sulla povertà, io vi do due dati contraddittori. Prego. 6 marzo, vado a memoria, l'Istat dice che il rischio di povertà scende dal 20 al 18.8. Il 16 marzo, l'Istat dice che è aumentata la povertà assoluta, il record dal 2014, ma in linea con il 2022. Allora, direttore, il rischio povertà, povertà, il rischio è una cosa. Il numero invece dei dati reali della povertà assoluta è un aumento. Siamo passati da 5,6 milioni a 5,7. Cosa significa concretamente? Lasci stare il rischio. Guardiamo, i dati della povertà assoluta sono aumentati. Cioè significa che 48 mila famiglie oggi sono aumentate. Queste 48 mila famiglie non sono numeri astratti. Sono 48 famiglie che non hanno di che mangiare. Allora questo governo che cosa fa? Questo governo, ripeto, non è stato capace di togliere un euro alle banche. Ha fatto cassa per un milione e 700 mila almeno, quasi due miliardi, scusate, quasi due miliardi, un miliardo e 700 mila, non un milione e 700 mila, sui poveri. Ha tolto dai poveri che non avevano di che mangiare per che cosa? Per fare un favore alle banche? Ma qui siamo alla follia totale. Però i cittadini in questo momento stanno lì a casa, ci guardano, hanno difficoltà e subiscono tutto questo. Quanto potrà durare tutta questa vita? Allora, prima di chiudere, visto anche che Marcello Sorgi è un attentissimo analista da sempre dei momenti alla sinistra, Marcello, come vedi i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico? In questo momento, insomma, non tanto buoni, diciamo la verità. D'altra parte, si vota con un sistema proporzionale in cui ognuno cerca voti per se stesso e poi il Movimento 5 Stelle storicamente le elezioni europee insomma non sono il suo miglior campo di gioco e quindi mi rendo conto che il Presidente Contra abbia anche qualche esigenza di propaganda in più, come abbiamo visto anche stasera. Però insomma non sono buoni e le campagne elettorali uno pensa che si dimentichino il giorno dopo, ma invece le campagne elettorali poi lasciano delle tracce, lasciano delle ferite, lasciano delle cicatrici, quindi se l'obiettivo di fondo rimane quello di ricostruire una maggioranza alternativa e io chiedo al Presidente Contra insieme a tante cose che non gli vanno bene del rapporto con il PD cosa pensa di fare per costruire questa maggioranza alternativa a quella di cento e tanti? Guardi, il fatto che si faccia una campagna elettorale europea in cui si corre da soli non è incompatibile col fatto che contemporaneamente si sta costruendo passo dopo passo un'alternativa di governo l'abbiamo visto su Stato Minimo Legale dove adesso andiamo a incitare i cittadini e stiamo raccogliendo le firme per una proposta di iniziativa popolare di legge sul conflitto di interessi in questi giorni noi stiamo discutendo sul conflitto di interessi che secondo me è importantissimo e stiamo sfidando la maggioranza io non so questa maggioranza come potrà ancora una volta far saltare il pallone bucarlo farlo sparire del conflitto di interessi come si può accettare che si prendano soldi da stati stranieri i nostri parlamentari è stato detto che c'è un volto bene copriamolo vedremo adesso su questo e su altri progetti riduzione all'orario di lavoro vedo che c'è convergenza da parte del PD su queste che sono delle nostre battaglie storiche quindi noi stiamo costruendo l'alternativa di governo peraltro il Movimento 5 Stelle direttore lo dico anche che costruisce le sue proposte contro qualcuno a differenza di altri soggetti politici che vogliono distruggere il Movimento soggetti politici che dicono ovviamente ci offendono con insulti noi abbiamo una tale convinzione dei nostri obiettivi politici delle nostre battaglie dei nostri principi che li perseguiamo con determinazione con coraggio senza avvertire la necessità di distruggere voler distruggere un'altra forza politica allora chiudiamo con tre lignette di oscia vediamo ma chi vince la sfida tra te e Meloni poi va in finale con me ancora? lo posso fare non la devi là adesso oggi non c'è da sistemare i conti del super bonus te guarda che io non ci voglio marci in Campidoglio io voglio andare su a Bruxelles ma chi te lo fa fare ma poi domani ti vogliono così bene posso fare una battuta? eh certo scusate cerchiamo la storia della raggi dai esatto io leggo sui giornali che ci sarebbe nel regolamento per le autocandidature europee delle modifiche anti raggi guardi che non abbiamo toccato nulla del regolamento il regolamento è lo stesso come non era anti raggi prima non è pro raggi perché assolutamente non potrei mai consentire che il movimento di fronte a eventuali modifiche regolamentali che non ci sono state anche per un domani possa concepire una norma contro qualcuno questo fino a quando ce l'ho io non lo permetterò io le regole attuali che sono sempre quelle bene grazie Presidente Conte grazie grazie a tutti grazie a tutti